Buongiorno a tutti, cari amici, cari colleghi, ovviamente è un piacere e un onore essere qui e mi unisco ai precedenti colleghi nel ringraziare gli organizzatori e coloro che hanno sostenuto l'organizzazione e noi esprimiamo davvero il nostro apprezzamento per quanto è stato fatto per questo convegno. Ora a questo punto veniamo a noi, la nostra presentazione sarà un po' come dei fuochi d'artificio, non ci soffermeremo a lungo sui nostri casi di studio perché diversamente vi terremo qua per numerose ere e vi mummificheremo. Vi raccontiamo in prima battuta che cos'è il Mammy Project che nasce ufficialmente nel 2008 e che si occupa con rigore e professionalità dello studio di collezioni egizie presenti sul nostro territorio. È un centro ricerche ma sviluppa anche progetti di studio e valorizzazione delle collezioni egizie. Siamo il primo team multidisciplinare creato esclusivamente per questi scopi in Italia ma abbiamo collaborazioni internazionali. Seguiamo un protocollo molto preciso che ci permette di studiare i reperti in maniera approfondita, di proiettarli nel panorama scientifico ma anche di rispettarli, conservarli e trasmetterli alle generazioni future. Il nostro lavoro è una sorta di anello perché comincia e finisce in museo con i restauri, con i nuovi allestimenti e anche una nuova didattica ma poi si irradia verso l'esterno con la divulgazione attraverso stampa e media ma anche attraverso eventi e spettacoli per la promozione del museo senza, e questo lo sottolineo, gravare sulla struttura ma facendo fundraising. È come se noi fossimo una scatola degli attrezzi dove però gli attrezzi sono gli specialisti. Infatti al di là del nome che può essere fuorviante noi non ci occupiamo soltanto dello studio delle mummie, ma dal 2008 ci prendiamo cura delle piccole collezioni egizie che sono conservate magari in musei meno noti al grande pubblico ma non per questo meno importanti. Cominciamo con uno dei nostri casi ed è quello di Asti. La città è meravigliosa, ricca di storia, di arte, le sue radici risalgono al momento in cui fu fondata dai Liguri, poi divenne città romana, Longobarda e via dicendo. È ricca di palazze rinascimentali, medievali, ma è anche famosa per il Paglio che ha origini antichissime, risale al 1095, la prima attestazione, quindi se la gioca un po' con Siena. Ma in questa città c'è un museo archeologico che si trova all'interno di un bellissimo complesso che si chiama San Pietro in Consavia, è un monastero del XII secolo. Qui c'è una collezione egizia conservata all'interno di questo museo che è la seconda per numero del Piemonte. È una di quelle collezioni ottocentesche raccolta da una famiglia, la famiglia Ottolenghi, che poi la dona al nascente museo che apre le porte nel 1903. Abbiamo iniziato studiando la mummia e il sarcofago per poi arrivare alla valorizzazione del museo che oggi è chiuso per un nuovo allestimento. Abbiamo messo a punto un rigoroso protocollo, noi partiamo dalle analisi radiologiche, quindi dalla TAC, effettuiamo campionamenti, analisi chimiche e fisiche e arriviamo fino alla ricostruzione del volto. Ma in questo caso siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo potuto effettuare una endoscopia completa, la prima in Italia, e ogni momento del nostro lavoro è stato documentato ma anche seguito attraverso conferenze stampa e divulgazione sui media, quindi dai telegiornali siamo arrivati fino alle trasmissioni satiriche. La ricostruzione del volto ha restituito l'immagine alla mummia, al tempo abbiamo scelto di non farla digitale ma di farla a scultura. Mentre stavamo studiando la mummia il museo di Asti è stato valorizzato all'interno di una mostra internazionale dedicata alla medicina nell'antico Egitto che ha visto la partecipazione di musei come il Metropolitan di New York, i musei vaticani, il museo egizio di Torino, il museo di Vienna, Firenze. Ma a fianco di questi grandi musei c'era anche una rosa, di musei con piccole collezioni egizie, dal museo del territorio bellese a quello di Domodossola, di Susa e di Vercelli. In questo modo, essendo presenti all'interno della mostra, si sono fatti conoscere e speriamo abbiano potuto avere nuovi visitatori. Tutte le fasi del progetto di indagine sono stati, come dicevamo, documentate, fotograficamente e con video, ma soprattutto è stato girato un documentario con Piero Angela e che è andato in onda nel settembre del 2011 e questo forse per il museo è stato uno dei momenti di maggiore divulgazione e anche, se mi posso permettere, di scoperta del museo stesso a livello nazionale. Lo studio della mummia è confluito in numerose pubblicazioni scientifiche. Noi partecipiamo costantemente a convegni, in particolare quelli ovviamente legati alle mummie, come il Mummy Congress, che si è tenuto a Bolzano a settembre, ma ci siamo anche interessati che oltre a pubblicazioni scientifiche ci fossero pubblicazioni divulgative. Ed è stato scritto, con molta fatica, un romanzo che racconta proprio la storia di questa mummia e dell'equip che l'ha studiata e anche questo è stato un momento di valorizzazione e di divulgazione. Pensate che sono state fatte circa, nell'arco di tre anni, circa 50 conferenze legate a questa mummia. Parlava praticamente da sola. E questo ha restituito una rassegna stampa infinita, da giornali a riviste storico-archeologiche ed artistiche. Ora abbandoniamo Asti e ci spostiamo a Vercelli, rimaniamo comunque in Piemonte. È una città che è famosissima ovviamente per la produzione di riso, ma in realtà è una città che racchiude, è un vero e proprio tesoro, racchiude bellezze storico-artistiche, anche qui, dai Liguri ai Celti, ai Romani, arrivando fino poi ai Longobardi e quindi a Cavour. E proprio ieri abbiamo potuto assistere alla presentazione delle nostre amiche e colleghe del Museo Camillo Leone, di cui adesso andiamo a parlare. Il Museo Camillo Leone ci ha visto collaborare fin dal 1998, quindi quando non eravamo ancora così strutturati. e non ci dilunghiamo tanto sul museo perché ne abbiamo parlato proprio ieri, voi pensate che nel 1998 il Museo Leone non aveva la didattica. E fu io, che ero in stage, perché al tempo frequentavo la scuola di archeologia a Bologna, ad aprire i primi laboratori didattici. Poveri bambini. E dunque il Museo conserva collezioni eterogenee, lo avete visto, sono disposti in ordine cronologico, dalla preistoria al risorgimento. E quindi ogni sala è dedicata ai vari periodi storici. È interessante che l'allestimento è tutelato come esempio di museografia e museologia, così come lo sono tutte le sue collezioni. La vetrina della collezione egizia è piccola ma molto ricca e si trova all'interno della sala dedicata alle ceramiche magno-greche e al bucchero etrusco. Eccola qua, la vetrina. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato la collezione egizia, abbiamo proposto un piccolo riallestimento, ma conforme a quello tutelato, e l'abbiamo valorizzata. Seguendo quello che è diventato appunto il nostro protocollo, quindi conferenze stampa, divulgazione sui media. Ma ci siamo anche preoccupati di pubblicare questa collezione. Nel 2011 abbiamo affrontato un bando della regione Piemonte, che ha vinto e ha ottenuto i fondi, e quindi è stato scritto il catalogo, che è stato presentato in un bellissimo salone, il Salone Dugentesco, e poi successivamente in altre città. È stato creato per questa occasione un vero e proprio evento spettacolo, dove io ho avuto il piacere di alternare la mia voce e le immagini della collezione egizia al primo violino del Teatro Verdi di Milano. E quindi, mentre lui suonava Sherazad di Korkakov o Flauto Magico di Mozart, io intervenivo raccontando la collezione egizia. Purtroppo non ho trovato molte foto di quell'evento. La copertina del catalogo è particolare perché è realizzata con l'elenco dei reperti steso da Ernesto Schiaparelli, che allora era poi direttore del Museo Egizio di Torino. Abbiamo organizzato tutta una serie di eventi culturali per far conoscere meglio il museo. Siamo nel 2010 e questo è successo prima del catalogo e abbiamo visto la partecipazione numerosa della cittadinanza, ma non solo, vi erano moltissime persone che venivano anche da fuori. Abbiamo fatto conferenze, proiezioni di documentari, laboratori didattici. Abbiamo visto la partecipazione di numerosi studiosi che abbiamo coinvolto, da Maria Cristina Guidotti, ex direttore del Museo Egizio di Firenze, a Francesco Tiradritti, noto egittologo e direttore dello scavo della tomba di Arua. Poniamo particolare attenzione ai laboratori didattici, ci rivolgiamo a tutti i target di pubblico, nessuno escluso. E in tali eventi ci siamo anche preoccupati di arricchire il bookshop del museo, in maniera tale che le persone potessero acquistare libri e cataloghi più o meno approfonditi. Anche qui la rassegna stampa ha restituito il lavoro fatto. In questa occasione abbiamo presentato un evento particolare, uno spettacolo teatrale che ha visto il coinvolgimento del pubblico. Ho avuto il piacere di scrivere una pièce teatrale con una scrittrice che racconta la storia di una mummia che adesso vedremo, quindi anche qui una storia vera, ma l'abbiamo romanzata un po', e abbiamo creato questo spettacolo che abbiamo presentato al pubblico al Museo Camillo Leone nel 2016, direi. Ora ci spostiamo un po' più a nord, andiamo a Merano. Non credo che la città abbia bisogno di grosse presentazioni, acque termali meravigliose, città prediletta da Sissi, ovviamente i mercatini di Natale, perché no? Ma a Merano c'è da pochi anni, dopo anni di lavoro, ben dieci, è stato inaugurato, ha aperto il pubblico, nel 2014, il nuovo museo al Palais Mammi. Qui troviamo delle collezioni miscellane, andiamo da oggetti antichi, ad abiti in uso alle popolazioni locali, collezioni di monete, minerali, fossili. Insomma, una sorta di viaggio nella storia, che però fa tappa anche in Egitto. Ed ecco che da queste collezioni vi sono un sarcofago e una mummia. All'inizio non erano esposti, noi li abbiamo trovati, conservati nei magazzini, e ce ne siamo presi cura seguendo il nostro protocollo. Quindi abbiamo fatto analisi radiologiche, i campionamenti, le analisi chimiche, fisiche, la ricostruzione del volto. Perché? Perché volevamo comprendere meglio questi reperti, poterne raccontare la storia. Quando siamo al lavoro, noi non interferiamo mai con le attività ospedaliere, anche se le battute fioccano, come ha fatto riferimento anche Susanna Moser, ma noi abbiamo il piacere di lavorare di notte o di sabato, quindi non graviamo sulla struttura ospedaliera, ma neanche sulla struttura museale, come ci siamo detti. A questo punto vediamo la ricostruzione del volto, perché così si è concluso il nostro studio di questa donna vissuta in epoca tolemaica. E poi abbiamo partecipato al nuovo allestimento, realizzando una grande vetrina, affiancata in questo caso da un documentario molto breve, di sette minuti, da noi realizzato, che racconta la storia di questi reperti e le ricerche effettuate. Non poteva mancare il catalogo, presentato nel 2016, con ovviamente lo studio dei reperti egizi, e è stato presentato con una conferenza stampa in museo, con una conferenza stampa e una conferenza in museo, ovviamente tutto rigorosamente bilingue. Adesso però veniamo a tempi più recenti e passo la parola alla dottoressa Motta. Sì, buongiorno a tutti. Mi sentite? Funziona? Bene. Allora, sì, grazie. No, no, lascialo pure così, sì, sì. Allora, io vi parlerò dei nuovi progetti, che praticamente coincidono con il mio approdo al Mammy Project, appunto attorno al 2014 ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Malgora, e poi appunto, piacere, e poi appunto di collaborare con lei come antropologo fisico, appunto affiancando l'antropologo forense, che già faceva parte del nostro gruppo. Voglio iniziare con un progetto di cui avete già avuto l'onore di sentire una bellissima presentazione da parte della curatrice del museo stesso, la dottoressa Magrassi Mastricardi. Appunto iniziamo quindi con il Museo archeologico dell'Università di Pavia. Pavia è un'università che vanta menzione antica, lo sappiamo appunto essere risalente già al XIV secolo, e al suo interno vanta anche la presenza di un museo archeologico già introdotto magistralmente ieri dalla dottoressa, e oggi curato dal professor Maurizio Arari, appunto professore di etruscologia e antichità italiche alla stessa università. Il museo ospita varie collezioni, tra esse ovviamente c'è anche una collezione egizia. La collezione egizia comprende sei sciapti, i 17 frammenti linei del mammy cover di cui avete avuto appunto la presentazione ieri, un papiro funerario con il testo dell'Handwat, la statuetta di bronzo del dio Siride, e una testa umana mummificata e una mummia intera ma completamente sbendata. Il nostro rapporto con il museo nasce proprio ai fini del studio e della valorizzazione di queste mummie principalmente. Il nostro protocollo appunto inizia sempre con il trasporto all'ospedale e l'analisi a tomografia computerizzata dei reperti al fine di ottenere appunto le scansioni utili per le ricostruzioni 3D e soprattutto per ottenere immagini, nei casi delle mummie sono molto utili, immagini ad alta risoluzione dei distretti che poi appunto io e la dottoressa Milani, l'antropologo Forense, abbiamo avuto poi occasione di studiare per ricostruire il profilo antropologico delle nostre mummie. La dottoressa Milani e il dottor Jonathan Elias inoltre sono coloro che si sono occupati delle ricostruzioni dei volti, delle nostre mummie. In questo caso appunto come nei casi precedentemente illustrati dalla dottoressa Malgora sono state effettuate le ricostruzioni fisiche proprio dei volti e sono state musealizzate insieme alle mummie stesse ed è stato anche indetto un concorso per bambini affinché appunto trovassero alle due mummie dei nuovi nomi. Le mummie sono di un giovane adulto e di una giovane donna deceduta tra i 20 e i 22 anni, scusate, un giovane uomo adulto ovviamente, e sono state anche corredate, il nuovo allestimento è stato anche corredato dalla replica 1 a 1 delle mummie per i visitatori con abilità diverse. Queste repliche sono state create da una società nota come Spazio Geco e devo sottolineare che è stata anche questa mummia in particolare, questa replica è stata oggetto di un interessantissimo intervento al congresso appunto di Bolzano che si è tenuto questo settembre di cui parlava prima la dottoressa Malgora, il decimo congresso internazionale di studio sulle mummie, da parte della dottoressa Tramontin di Spazio Geco che ha proprio avuto l'occasione di valorizzare l'utilità di queste repliche, non solo l'utilità sociale proprio per venire incontro ai visitatori con diversabilità, ma anche a livello didattico perché ovviamente viene anche sfruttata dai bambini che ovviamente vanno in visita al museo. A questo proposito per presentare proprio la ricostruzione del volto del giovane uomo è stato anche fatto questo evento chiamato Touch perché vi era anche la replica della testa di mummia e è stato poi anche inaugurato l'Egyptian Corner di cui avete potuto vedere anche altre foto nell'intervento di ieri che ha riscosso un enorme successo nella comunità pavese che quindi è stata chiamata a conoscere questa parte di storia che prima ignoravano. E infine si è concluso il tutto con una deliziosa giornata di studi dedicati alle mummie che ha avuto occasione di far presentare anche membri illustri del mondo della ricerca come qua vediamo appunto Albert Zink, lei è la nostra antropologa appunto Chantal Milani, c'era anche il dottor Cristian Greco del Museo Egizio di Torino. Ora passo ad un'altra città, a Brescia, ci spostiamo a Brescia nel Museo di Scienze Naturali con il quale abbiamo avuto l'occasione di collaborare dal 2015 al 2019. Il Museo di Scienze Naturali di Brescia è stato per un po' di tempo non visitabile in tutte le sue parti anche se ora mi sembra che sia ritornato interamente fruibile. Quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione era diretto dal dottor Paolo Schirolli che appunto è stato, diciamo, durante una sua opera di catalogazione dei reperti all'interno dei magazzini si è trovato di fronte ad una scoperta molto interessante ma anche fortuita. Infatti si è trovato delle scatole chiuse di cui non aveva memoria all'interno del quale vi erano dei reperti attinenti ad una collezione egizia. anche una collezione abbastanza cospicua perché vi erano 23 mummie di animali tre teste di mummie umane e anche alcuni frammenti di mummia quindi mani, piedi, sempre appunto umani. Ovviamente è stata una grande scoperta perché questi reperti erano finiti completamente dimenticati all'interno dei depositi come purtroppo spesso succede alle nostre povere antichità. e appunto siamo quindi entrati in gioco noi all'inizio grazie a questa mostra focalizzata appunto sul rapporto tra l'antico Egitto e l'arte contemporanea in particolare nella figura del grande artista piemontese colombotto rosso sono stati appunto presentati alcuni di questi reperti bresciani ma lo studio poi è iniziato un po' dopo appunto dal 2016 quando in vista della loro prossima esposizione li abbiamo sottoposti al nostro solito protocollo finalizzato alla ricostruzione del profilo antropologico per le mummie umane ma anche zoologico per le mummie animali. Quello che ne è conseguito è stato quindi un riallestimento più che un riallestimento un allestimento ex novo della sezione egizia all'interno del Museo di Scienze Naturali di Brescia il modello era proprio quello della Wunderkammer una camera delle meraviglie come quella che abbiamo avuto occasione di sentire ieri con la presentazione su August Kessner e quindi appunto abbiamo proprio allestito questa piccola sezione corredata di anche materiale multimediale ovviamente anche in questo caso abbiamo fatto le repliche dei reperti grazie a Spazio Gecko e la ricostruzione del volto della testa di mummia maschile sempre appunto i risultati anche delle analisi scientifiche sono confluite in un catalogo a breve invece ci sarà spero breve perché poi con le pubblicazioni scientifiche non si sa mai quanto breve sia ci sarà anche poi una pubblicazione proprio di stampo prettamente scientifico perché ho avuto l'occasione di occuparmi di studiare più nello specifico le teste di mummia umane per la discussione della mia tesi del master in antropologia forense che ho conseguito anche grazie alla mia relatrice che è stata proprio la dottoressa Chantal Milani e adesso ci spostiamo io di nuovo in un'altra città e vi parlo brevemente degli ultimi due casi seguiti dal MAMMI Project che sono ancora dei work in progress innanzitutto Bergamo il civico museo archeologico un progetto che è iniziato appunto l'anno scorso e si deve ovviamente ancora concludere all'interno delle piazze della cittadella vi è questo bellissimo contenitore che è il museo appunto archeologico bergamasco ora chiuso perché in fase di totale riallestimento e ristrutturazione e vanta anche in questo caso una piccola ma preziosa collezione egizia composta da una mummia da un sarcofago datato alla ventiduesima dinastia si tratta di un yellow coffin frammenti di mummia quindi una mano e un piede vari amuleti delle statuette dei bronzetti e degli sciapti e ovviamente la mummia è stata diciamo la regina indiscussa della nostra collaborazione con il museo la mummia appunto è stata sottoposta al nostro solito protocollo ma abbiamo avuto occasione di portarla al decimo congresso di cui vi parlavo poc'anzi portandola quindi all'attenzione internazionale cosa che favorirà molto il museo perché è stato bello vedere come anche studiosi di fama internazionale si siano comunque interessati a questa realtà museale così piccola perché alla fine risulta anche abbastanza ignorata soprattutto dalla comunità locale tuttavia appunto abbiamo avuto occasione di svolgere come al solito il nostro protocollo che ci ha permesso appunto di scoprire che il defunto era un uomo adulto tra i 40 e i 45 anni anche di altezza notevole per l'epoca perché era alto almeno 1,77 m con una margine di errore di 3 cm quindi più o meno 3 cm e è stato poi anche ricostruito il volto qua vi ho messo una foto della nostra collaboratrice che appunto si è occupata di presentare il volto al convegno che però ora deve ancora rimanere un segreto in vista del nuovo allestimento sempre appunto conferenze stampa divulgazione perché come ha sottolineato la dottoressa Malgora è sempre molto importante rendere la comunità partecipe anche attraverso l'utilizzo dei media locali ma in questo caso anche non locali perché siamo finiti anche su tv internazionale ma soprattutto un progetto molto interessante è stato il restauro a vista della mummia qua potete vedere le nostre due collaboratrici la dottoressa Cinzia Oliva ben nota soprattutto ai vaticani e la dottoressa Elena Rossi che è un nostro membro del Mammy Project alle prese con il restauro della mummia mentre appunto da una finestra i visitatori avevano occasione di vederle al lavoro inoltre è stato fatto anche un evento molto bello io che ho potuto esserci dentro l'ho vissuta con molta passione perché abbiamo potuto incontrare appunto la comunità bergamasca spiegare loro che cosa stavamo facendo e poi loro dopo aver chiacchierato con me la dottoressa Malgora avevano l'occasione di andare a parlare con la dottoressa Oliva mentre era lì che lavorava alla mummia a me questo genere di eventi emozionano sempre molto perché vedere l'emozione delle persone alla scoperta di una realtà che prima non conoscevano mi fa capire che è quello per cui tutti lavoriamo che alla fine è proprio quello che muove le nostre ricerche e quindi appunto ora non ci resta che vedere come andrà il nuovo allestimento finisco presentandovi brevemente il nostro ultimissimo progetto con il museo archeologico di Erba un museo sito in Villa Ceriani copre un vasto arco cronologico e vanta anch'esso una piccola collezione egizia piccola ma in realtà con manufatti veramente deliziosi come per esempio appunto il cestino abbiamo appunto lo scarabeo con la testa di sfinge il manico di specchio figura antropomorfa ma soprattutto tre mummie anzi tre frammenti di mummia una mano, un piede e una testa ovviamente umani che sono stati analizzati precedentemente io qua vi ho messo ovviamente i crediti degli studiosi che si sono occupati dell'analisi più di stampo antropologico e anche egittologico perché hanno anche provato una datazione attraverso i metodi di imbalsamazione appunto i materiali utilizzati però appunto c'è sempre da fare nonostante appunto gli studi siano recenti perché le indagini risalgono al 2018 abbiamo potuto iniziare questa nuova collaborazione in vista di avendo come obiettivi la valorizzazione del museo quindi creare nuove opportunità di fruizione al pubblico come? proponendo un nuovo allestimento innanzitutto ma soprattutto procedendo al restauro di questi resti che come avete potuto vedere dalle foto precedenti si vertono in condizioni un po' disastrose e di conseguenza appunto speriamo il progetto ha avuto inizio questo ottobre proprio questo il primo weekend di ottobre abbiamo avuto occasione di fare prima una conferenza con le autorità spiegando le nostre intenzioni e poi presentandoci al pubblico con un laboratorio ludico didattico che ha attirato tantissimi bambini avevamo tipo 200 persone da Tenera Bada è stato veramente molto challenging ma anche molto bello come occasione e quindi niente mi avvio semplicemente a delle conclusioni che in realtà sono più osservazioni sappiamo tutti bene come la ricerca scientifica questo convegno lo ha dimostrato debba cercare soprattutto di valorizzare le realtà museali più piccole e non solo quelle più note per le quali è anche più facile riscuotere risonanza a livello mediatico ma sono proprio le realtà cadute nell'oblio nell'oblio della cittadinanza stessa perché io mi permetto di fare l'esempio di Erba ma io ho avuto genitori mentre parlavamo appunto durante la visita guidata che non avevano idea di avere un museo archeologico nella città passavano di fronte a villaceriani e non sapevano nemmeno che vi era un museo archeologico quindi lo studio multidisciplinare dei resti umani ma soprattutto delle collezioni egizie in generale è fondamentale per comprendere un passato che non ci è lontano ma che è soprattutto parte della memoria storica delle singole città e ci tengo a ringraziare anche da parte della dottoressa Malgora i nostri membri del Mami Project tutti i musei con cui abbiamo collaborato quindi ringrazio anche la dottoressa Magrassi visto che è l'unica qui presente in sala con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare e soprattutto ringrazio voi sia per l'attenzione che mi avete dedicato ma anche per i vostri splendidi lavori che contribuiscono proprio a raggiungere questi obiettivi di valorizzazione della nostra memoria storica veramente grazie a tutti voi